Per i giovani calciatori di ieri, chi era Cecce Sellaro? Mio padre sicuramente, visto che c'è anche questo memory, più che altro per i calciatori che sono stati i suoi calciatori, quindi siamo oggi qui per ricordarlo. Quali consigli offriva loro? Guarda, io ricordo che sì, i suoi consigli erano soprattutto calcistici, però lui cercava di crearli anche come uomini. Un valore difficile da trovare oggi nell'ambiente crotonese. Ed è particolare che ancora oggi si ricorda il signor Sellaro? Certo, perché sicuramente una figura come lui non ci sarà più, non perché era mio padre, io lo conoscevo come papà, loro lo conoscono, lo riconoscono come allenatore, tra virgolette anche papà, perché lui si prendeva cura dei suoi calciatori. Quindi io penso che figure come la sua non ce ne saranno più. E vi sono qui diversi calciatori che hanno avuto a che fare con suo padre. Pensiamo ad esempio a Franco Corigliano. Franco Corigliano che poi di conseguenza nella sua carriera ha allenato anche il crotone calcio. Poi ricordiamo anche Cimicata, ricordiamo anche Esquillaci, De Paola, che non so se ci sarà stasera, e tanti altri. Fortunato Scarriglia, fortunato Scarriglia, che poi per una cosa o l'altra non ha giocato nella Juventus, ma lui è stato anche venduto alla Juventus dal mio papà. Allora, lo stesso fortunato era come aveva vissuto con mio padre. In un certo senso lui inculcava ai ragazzi quello che era il valore della famiglia. Quindi lo stesso fortunato, vedendosi allontanato dalla sua famiglia per il calcio, si è trovato in difficoltà. Quindi lui, quell'affetto, quell'amore della sua famiglia, lo stesso affetto che gli dava mio padre, non l'ha trovato poi nella Juventus. Non come adesso, come oggi, che i ragazzi sono pronti subito, anche a 13-14 anni, ad andare via. Ma che effetto le fa sentire parlare di suo padre? Guardi, io sono molto orgogliosa, sono anche molto emozionata, perché ogni anno per me questo pensiero che viene dato da Claudio Regalino, da Piero Pilu, nei confronti di mio papà, mi rende molto orgogliosa. Sono tanto felice, perché alla fine rendere vivo questo personaggio, certo, il ricordo di mio padre, significa che nei loro cuori e nei cuori dei crotonesi, di quelli che hanno giocato a calcio, ha lasciato il segno. Perché poi chi semina, i frutti vengono raccolti. Io penso questo, perché lui è stato un maestro nel calcio, lui era un talent scout, lui li scopriva, quindi era addentrato nel calcio, quindi andava, diciamo, a cercare, tra virgolette, questi talent scout nei quartieri più, tra virgolette, malfamati, se così si può dire. Anche se lui molte volte diceva questa frase, i veri campioni sono proprio qui. E oggi vi sono talent scout a crotone nel calcio? Guarda, io calcisticamente non me ne intendo, a differenza di mio padre io non seguo il calcio. Guarda, non credo ci siano persone che mettono il cuore senza un risponso finanziario alla fine. Come CCC, se è Lauro anche Faga. Certo, anche Faga, sì, il signor Faga che viene anche ricordato, lo ricordava anche mio padre, mi ricordo che lo nominava sempre, no? Il fatto di non avere, di non essersi, tra virgolette, farsi i soldi con il calcio è una cosa che alla fine fa onore a questi due grandi uomini, perché quello che era importante era portare avanti questi ragazzi, calcisticamente e anche umanamente. Grazie.